Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e questo è il video acquisti di aprile 2019 Eccoci di nuovo con il nostro appuntamento, ovvero il video acquisti di ogni mese E questo mese è uscita veramente un casino di roba, un sacco di serie, un sacco di volumi nuovi E non li ho presi tutti, cioè ne ho presi abbastanza, però non li ho presi tutti Perché alcuni volumi sono usciti ora a fine mese e non aveva senso prenderli Per tre motivi, uno perché non ce l'ho fatta a prenderli in questi giorni perché non sono andato in fumetteria Io non compro online, io compro solo in fumetteria E non sono potuto andare in fumetteria perché non sono uscito in questi ultimi giorni e quindi non li ho potuti prendere Poi perché anche se li avessi presi non li avrei letti, cioè non avrei fatto in tempo a leggerli Quindi non potevo darvi magari una breve spiegazione a questo video E poi terzo motivo perché se in questo mese, cioè in questo mese è uscito veramente un casino di roba Quindi vuol dire che il mese prossimo a maggio non uscirà niente Cioè poche cose, credo Quindi per fare un video con più roba, cioè il video acquisti di maggio Per non metterci solo quelle poche cose Ci metto anche le cose che sono uscite in questi ultimi giorni Quindi fra aprile e maggio Comunque raga ho fatto le mie permesse Ricordatevi di iscrivervi al canale, passare dalla pagina Instagram Se siete nuovi di passare anche da questo canale per vedere un pochino i video che faccio Se vi va di iscrivetevi E poi lasciate like, commentate e condividete E io direi che possiamo cominciare subito Allora, come al solito io partirei dalla Panini Cioè dalla Planet Manga Cominciamo con Tiamo ma fatti ammazzare 2 Che è uscito il 28 marzo E quindi era praticamente quasi aprile E a marzo non l'ho comprato e ve lo faccio vedere adesso Serie carina, ci sta dai Poi volume 6 di Boruto L'avete già visto nel video che è uscito ieri l'altro, in teoria E... Non è tutto sto granché Però comunque mi piace leggerlo Perché mi piacciono un sacco le tavole Come sono proprio fatte le tavole Poi mi piace... Cioè insomma mi piacciono combattimenti Qua ce ne sono Quindi continuo a comprarlo Boh Però comunque la storia alla fine Insomma Più che altro perché è il seguito di Naruto Cioè se fosse stata una storia a sé Probabilmente sarebbe anche stata Bellina Però essendo il seguito di Naruto Insomma proprio perché è il seguito di Naruto Non è chissà cosa Diciamo che per esserlo Potrebbe essere molto meglio Non so se avete capito cosa voglio dire Comunque se non avete capito Guardate il video che ho fatto Che ho caricato due giorni fa Dove parlo proprio di questo volume di Boruto Oppure il video che ho fatto quasi un anno fa Se non un anno fa Dove parlo proprio di Boruto Poi Platinum Hand 9 di Oba e Obata Ogni copertina è sempre diversa Questa qua è gialla E come ho detto Degli stessi autori di Death Note e Bakuman E boh Ancora questo volume non l'ho letto Diciamo che con Platinum Hand Lo sto comprando Però mi sono un po' fermato Perché preferisco leggermelo tutto insieme Quando finirà Non so quando finirà Poi se mi verrà voglia Ricomincerò a leggerlo prima Ok abbiamo terminato la Planet Manga Passiamo alla Star Comics Dottor Stone numero 4 Manga disegnato da Boichi Infatti si può vedere anche Dallo stile dei capelli Ora io non leggo Boichi Però ho visto qualche disegno I capelli sono più o meno quelli Poi la copertina qua bianca Qua dietro viola E è un manga carino La civiltà Cioè l'uomo che riparte Da zero Da non aver nulla Quindi una civiltà che ricomincia Che cavolo ho detto Non lo so Non ho idea Però comunque Se seguite manga e anime In questo periodo Sapete sicuramente Di cosa parla questo Questo manga Poi abbiamo Vita da Yamcha Il volume autoconclusivo Vedete un pochino Fatto un po' in stile giapponese Cioè in stile copertina giapponese È parecchio fine Vi faccio vedere rispetto a Dottor Stone Ecco vedete È leggermente più fine Cioè leggermente Parecchio più fine Quindi pensate rispetto a manga Della Planet Per esempio Ed è una storia molto carina Che consiglio Che consiglio a tutti Se vi piace Dragon Ball Sempre per Dragon Ball Abbiamo Dragon Ball Super Numero 7 Esce un volume ogni tanto Il prossimo dovrebbe uscire a luglio Addirittura fra tre mesi E c'è scritto mensile Ma in quanto due anni Siamo ancora al volume 7 Che bello A parte questo Probabilmente è iniziato Un arco narrativo interessante Siamo al torneo del potere Inizia il torneo del potere La squadra di Goku La squadra di Goku Si formerà Tipo nel secondo No nel primo capitolo Quindi diciamo Che la squadra di Goku È già formata E probabilmente Questa qua potrebbe essere Una parte interessante In copertina Vediamo L'idea della distruzione E dietro vediamo I Kaioshin Quindi anche bellina La copertina Speriamo Che Dragon Ball Super Vada avanti così Perché devo dire Che sta migliorando Poi Demon Slayer Volume 1 Manga molto carino A me mi è piaciuto Mi è piaciuto E potrebbe diventare Abbastanza famoso Non dico a livello di Dragon Ball Almeno qua in Italia Ma sicuramente A livello Tipo di Nuya Asha Probabilmente sì E poi I Dipinti Maledetti Numero 1 Anche questo Manga abbastanza carino E dovrebbe uscire il 2 Subito ora a maggio E a proposito Di questi due manga Demon Slayer E I Dipinti Maledetti Che tra l'altro Sono due ottime serie Da iniziare Oltre a questi due Ci sono anche Tre segnalibri Due di Demon Slayer E uno dei Dipinti Maledetti E due poster Che ora cercherò Di farvi vedere Per intero Allora Prima è di Demon Slayer E mi devo alzare Per farvelo vedere Perché è veramente enorme Cioè guardate accanto a me A parte che sono Tipo non mi si vede Dalla luce Guardate quanto è grande Quindi il primo di Demon Slayer Molto carino E il secondo Dei Dipinti Maledetti Che alla fine Che alla fine è uguale Alla copertina Vedete Comunque anche questo Molto carino Se dovessi scegliere Fra i due Cioè fra i due manga Ovvero I Dipinti Maledetti E Demon Slayer Forse preferisco Demon Slayer Perché mi sembra una storia Più interessante E mi aspetto tanto Bene ragazzi Il video acquisti Di aprile 2019 Finisce qua Ditemi cosa ne pensate Di manga che ho preso Se secondo voi Sono dei buoni manga Scrivetemi qua sotto Che video vi piacerebbe vedere Classifiche tipo Top 10 Personaggi Più qualcosa Top 5 Anime Più Così E Magari passate anche Dalla descrizione E Poi Passate dalla pagina Instagram Mi raccomando È importante Perché Lì vi tengo sempre aggiornati Sulle cose più importanti E a proposito Di cose importanti Siamo arrivati a 150 iscritti E vi ringrazio davvero tanto E fra un po' Arriverà anche lo speciale Comunque Il link Per la pagina Cioè Il nome della pagina Instagram Ve lo lascio in descrizione Vi lascio anche il link Degli altri due canali Se vi va passate Date un'occhiata E magari iscrivetevi Iscrivetevi Commentate Condividete Lasciate like Io vi saluto E ci vediamo in un prossimo video Ciao raga